E' stato riaffidato ai genitori e denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria minorile, il quindicenne che nei giorni scorsi è stato trovato in possesso di un coltello di tipo serramanico della lunghezza di 15 centimetri dagli agenti del commissariato di polizia di Fano. E' accaduto in zona Pincio, dove le forze dell'ordine in collaborazione con la polizia locale hanno svolto dei servizi di controllo al fine di prevenire la commissione di atti di vandalismo, dispaccio di sostanze stupefacenti e liti, in particolare da parte dei frequentatori del posto, molti dei quali giovani compresi tra i 14 e i 17 anni. Nel corso delle stesse operazioni di vigilanza, altri tre minorenni sprovvisti di mascherine sono stati identificati e accompagnati presso il commissariato, dove sono stati affidati ai genitori ai quali poi è stata notificata la sanzione di 400 euro.